E' Silvia Breh, autrice bergamasca trapiantata a Roma, la vincitrice della 21esima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila B per Banca, intitolato Allaudomia Bonanni. Breh ha vinto la sezione della poesia edita con l'opera Le Campane. Gli altri due finalisti sono stati Federico Federici con profilo minore e Plinio Perilli con Museo dell'Uomo, Poesie e Poemetti. Il premio alla carriera invece è andato a Dante Marinacci con Bagliori Planetari. Ha significato di darmi l'onore di leggere le mie poesie, che le mie poesie siano state lette da ragazzi meravigliosi che sono molto lieta che abbiano scelto il mio libro. Sono particolarmente lieta perché la lettura dei giovani è fresca, è ancora innocente, è limpida ed è leale. Quindi è una gran cosa che i ragazzi votino, leggano e si cimentino con i versi. Un grande lavoro quello fatto dalla giuria tecnica e dalla giuria degli studenti che hanno scandagliato le opere degli autori per decretare la terna finalista e poi il vincitore, la premiazione all'editorium del parco davanti a molti studenti. La novità di quest'anno dopo la pandemia è stato proprio il ritorno degli studenti al premio. Qualità come sempre molto alta ed evento impreziosito dalla presenza di un grande poeta come Ilya Kaminsky, poeta ucraino dalla poetica particolarmente innovativa. La scelta non è stata casuale perché la sua figura si trova al centro di inquacervo culturale tra Europa ed America, nel contesto della guerra nato ad Odessa, costretto a fuggire da piccolo con la famiglia negli Stati Uniti. Quando è scoppiata la guerra mi sono chiesto che cosa posso fare, che cosa posso portare io, come posso aiutare il mio paese. Quindi mi sono messo in contatto con un giornalista, una persona di 86 anni tramite email. Alla fine mi ha risposto alla mia domanda come posso aiutarvi e lui mi ha detto Putin va e viene, mandaci delle poesie. Quindi abbiamo cominciato questa corrispondenza epistolare per email e abbiamo creato una sorta di rivista di poesie. E questo è stato qualcosa che ha dato la possibilità alle persone di stare insieme, di riunirsi.